Segui La Sette anche su Instagram. La Sette ovunque con te. Allora così Presidente Consiglio ieri con Sanchez ha parlato anche dei soldi, delle risorse che vanno e sono stanziate anche per il capitolo migranti nella parte accoglienza evidentemente. Intanto do il buongiorno a Claudio Velardi che ci ha raggiunto in collegamento. Buongiorno. Good morning. Posso dire good morning? Ma certo che sì. Giuro Rampelli che dopo le faccio spiegare questa storia della lingua italiana e inglese. Però ha visto, ha detto good morning e non sono stata multata ancora per il momento. Poi la spieghiamo. Velardi. Non parli troppo presto. Ecco, è una minaccia. Velardi, volevo sentire anche te sul discorso del PNRR anche declinato. Oggi alcuni giornali dicono che le risorse finiranno tutte per i migranti, per il piano dell'accoglienza. Poi ognuno la tira, come sempre, dove crede. Grazie.